Dalle mascherine anti-covid alle borse e scarpe griffate, passando per i prodotti elettronici. Diversi sequestri sono stati effettuati negli ultimi mesi dopo il lockdown da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane nel porto di Brindisi. In particolare sono state intercettate 9.000 mascherine completamente sprovviste di documenti destinate al mercato di contrabbando. Inoltre sono stati posti sotto sequestro oltre 52.000 prodotti elettrici e elettronici di fabbricazione cinese, recanti il marchio Comunità Europea falso. Tra questi quasi 4.000 prodotti recavano i marchi contraffatti Apple e Samsung. Rivenute e sequestrate anche circa 6.000 borse contraffatte riconducibili ai noti marchi Louis Vuitton, Gucci, Chanel e Moschino. Oltre a 2.000 paia di scarpe con segno Nike falsificato, rinvenute e a bordo di un auto articolato proveniente dalla Grecia e diretto in Portogallo. Al termine di tutte le operazioni sono state denunciate 11 persone per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.